Il vero protagonista della serata è proprio Don Serafino e parliamo di una nuova versione della Bibbia con però dei testi antichi. Sì, Don Serafino ha lavorato tantissimi anni, circa 7-8 anni, anche se ha più riprese su un testo biblico di ebraico che è stato tradotto in questi ultimi tempi, è stato editato in questi ultimi anni. Lui ne ha fatto una bellissima traduzione, direi molto poetica, anche molto leggiatra, qualche volta anche abbastanza ardita per come traduce i termini, perché Coelet è il libro più provocatore di tutta la Bibbia. È un libro per i credenti e anche per gli atei. È un bastian contrario, è uno scettico, è una persona estremamente critica. Don Serafino ha fatto un testo di una collana filologica dove ha dato, dal testo ebraico che è preso dalla quinta, si dice, la quinta edizione del testo ebraico, ne ha fatto un'ottima traduzione, circa 175 note filologiche, e poi un'esegesia a piedi pagina. Quindi il libro può essere letto, diremmo, a diversi piani, secondo le competenze e le culture che hanno. È un testo delizioso, è uno degli ultimi nati, sul Coelet è l'ultimo testo pubblicato in Italia ed ha il vantaggio di avere una prosa anche molto scorrevole. Io ho seguito il suo lavoro durante questi anni, anche perché siamo amici e collaboriamo con la sua rivista di Catanzaro e abbiamo affinato un po' anche tante traduzioni. Quindi è un lavoro che ho visto nascere. Stasera lo presentiamo qui a Crotone, che è la sua città, perché lui è qui, è parroco, ma poi Don Serafino lavora a tanti livelli, non solo come insegnante, ma anche come pastore.